Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Nel 1984 l'università di Harvard aveva invitato Italo Calvino a tenere un ciclo di conferenze nella prestigiosa università americana, conferenze che il grande scrittore italiano non tenne mai perché la morte purtroppo lo colse prima. Non prima però di avere quasi completato il lavoro che la moglie Esther ha riordinato con cura e che è diventato le lezioni americane, sei proposte per il prossimo millennio, sei conferenze quindi. Cinque complete, una incompiuta, i titoli sono la leggerezza, la rapidità, l'esattezza, la visibilità, la molteplicità e una sesta ripeto ancora da concludere. Gli obiettivi di Calvino quali sono è lui stesso a dirceli. Vorrei dedicare queste mie conferenze ad alcuni valori o qualità o specificità della letteratura che mi stanno particolarmente a cuore cercando di situarle nella prospettiva del nuovo millennio. Vediamo un po' cosa intendeva Calvino per leggerezza. Dopo 40 anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie strade e compiuto esperimenti diversi, è venuta l'ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro. Proporrei questa. La mia operazione è stata al più delle volte una sottrazione di peso. Ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città. Soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio. La leggerezza dunque. Un esempio tra i tanti, tra le decine che Italo Calvino fa a partire da scrittori dell'antichità, del passato, suoi contemporanei. Uno è esempio Milan Kundera. Il suo romanzo, l'insostenibile leggerezza dell'essere, è in realtà un'amara constatazione dell'ineluttabile pesantezza del vivere. Non solo della condizione d'oppressione disperata e all-per-wading che è toccata in sorte al suo sventurato paese, ma di una condizione umana comune anche a noi, pur infinitamente più fortunati. Il peso del vivere per Kundera sta in ogni forma di costrizione. La fitta rete di costruzioni pubbliche e private, che finisce per avvolgere ogni esistenza con nodi sempre più stretti. Il suo romanzo ci dimostra come nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell'intelligenza sfuggono a questa condanna. Le qualità con cui è scritto il romanzo che appartengono a un altro universo da quello del vivere. E così via di seguito con gli altri capitoli, quindi con la rapidità, con l'esattezza, la molteplicità. La ricchezza delle argomentazioni e dei riferimenti letterari rendono questo libro ineludibile per chiunque voglia approfondire il tema della creazione letteraria e molti degli esempi proposti potranno essere di grande utilità per noi e per i nostri alunni. Bene adesso vi ringrazio e come sempre vi chiedo di venirci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social.